Il carnevale sulle mura verso la storica intesa, la Fondazione Via Regina e il Comune di Lucca progettano una sfilata di coreografie e di mascherate da tenersi durante la prossima edizione della storica manifestazione. Legge antimafia, sequestrati Villa e Denaro, operazione della Guardia di Finanza Marina di Pietrasanta, il valore del sequestro ammonta a quasi 300 mila euro. Lo sport basket, Agnew, stagione finita, le mura corre a ripari, la forte giocatrice americana dovrà operarsi al ginocchio sinistro, lunghi i tempi di recupero e allora la società biancorossa deve intervenire sul mercato. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del Telegiornale che apriamo dunque parlando del Carnevale di Viareggio che approderà sulle mura di Lucca. Ma vediamo tutti i particolari di questa intesa che ha davvero il sapore della storicità nel servizio. Non si parla di una vera e propria sfilata dei cari allegorici, ma di una prima storica presenza di figuranti e coreografie nelle strade e sulle mura di Lucca, fra maschere e coreandoli. Un qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa, persino nei più brillanti sketch della canzonetta, che invece si appresta a diventare realtà nel segno della promozione turistica. Una collaborazione lanciata in vista del 150esimo anniversario del Carnevale, nel solco della ritrovata intesa fra le amministrazioni di Lucca e Viareggio, partita con una prima riunione fra l'assessore al turismo lucchese, Remo Santini, e la presidente della fondazione, Marialina Marcucci. La data individuata potrebbe essere sabato 11 febbraio o sabato 18 febbraio del prossimo anno, alla vigilia del secondo o del quarto corso mascherato, quando per le vie lucchesi e sulle mura sfileranno i figuranti, le coreografie e alcune mascherate, protagonisti del Carnevale 2023. Sarebbe la prima volta nella storia della manifestazione. È un connubio quello che sta proseguendo con il comune di Viareggio, iniziato con l'arrivo delle statue di Catalano, che sulle mura stanno esplodendo in quanto aggradimento sui social, ed è un'iniziativa che vuole creare anche un pacchetto turistico nella vasta stagione a Lucca, coniugando le maschere, i coriandoli, a quella che è l'immagine monumentale della città. Sarà impossibile portare i carri, anche perché chiaramente le mura hanno una dimensione tale che non lo consente, ma tutto quello che c'è intorno al Carnevale indubbiamente sì, e ci sembra che, almeno per quanto riguarda i 150 anni di questa manifestazione, sia un tributo doveroso. Per promuovere l'iniziativa ci sarà un manifesto straordinario, basato sul bozzetto di un carro, raffigurante Lucca, e firmato da Fabrizio Giannini su Commissione dei Fratelli Francesconi nel 1948. Il carro, mai realizzato, si sarebbe intitolato Mercato Lucchese. Del resto, una valenza storica in questa alleanza c'è. Fu proprio un gruppo di borghesi aristocratici lucchesi, nel martedì grasso del 1873, a proporre la prima sfilata in Viareggia, arricchita da carrozze decorate con fiori. 150 anni dopo, la festa si appresta a vivere fra le antiche mura. I dati della pandemia ai nuovi contagiati in Toscana sono stati 2716, età media 52 anni. Tasso di positività sempre alto al 18,7%. Aumentano i ricoverati, 458 più 30. Calano le terapie intensive, 19 meno 2. Sei decessi in regione, con un'età media superiore ai 79 anni. Nessuno in provincia di Lucca, dove nuovi contagiati sono stati invece nelle ultime 24 ore. A seguito di un caso di febbre Deng, segnalato dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest sul territorio di Pietrasanta, il sindaco Giovannetti ha firmato un'ordinanza che dispone la disinfestazione sulla base delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute. L'intervento sarà effettuato dalle 4 di domani notte, del giorno 13 ottobre, in un raggio di 100 metri dalla zona del caso manifesto, vediamo appunto anche la piantina, nelle vie Galvani, Andreotti, Pirandello, Verga, Cava, Grazia, Deledda e Piazza Pietro Lucchesi. Durante la disinfestazione sarà necessario per la popolazione restare al chiuso e sospendere il funzionamento degli impianti per il ricambio dell'aria. Inoltre tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri su pellettili come ciotole e abbeveratoi con teli di plastica. Legge antimafia, restiamo in Versilia, esattamente a Marina di Pietrasanta, sequestrata villa e anche denaro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Firenze di Firenze, in collaborazione con il Comando di Lucca, hanno eseguito un sequestro preventivo di parte di un'abitazione di Marina di Pietrasanta del valore di circa 250 mila euro e di denaro per 30 mila euro nei confronti di un 32enne originario di Napoli, ma residente a Viareggio. Sulla base degli elementi di prova, sinora raccolti e secondo l'ipotesi vagliata dal giudice del provvedimento in corso di esecuzione, il Gico di Firenze ha rilevato che il destinatario del sequestro, colpito a suo tempo da un provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avrebbe omesso di comunicare al tempo le variazioni del proprio patrimonio. Un obbligo di comunicazione normativamente previsto dal Codice Antimafia è finalizzato a monitorare, su un arco temporale decennale, gli investimenti di coloro che sono stati sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione. I reati che sono contestati al soggetto in questione vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti all'estorsione, dalla spendita di banconote false alle lesioni, motivi per i quali nel 2013 li è stata applicata alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il procedimento di sequestro è comunque attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della persona, così come la fondatesa dell'ipotesi d'accusa mossa a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta a indagini. E c'è anche la violenza a dominare spesso le notti nella pineta di Viareggio. Un violento episodio si è verificato nella nottata di martedì nella zona della pineta di Ponente e sulla dinamica, di fatti, stanno indagando i carabinieri del comando di Viareggio. Intorno a luna di notte alcuni passanti hanno soccorso un uomo nei pressi della capannina di Viareggio. Il ferito, originario del Marocco, presentava profondi tagli all'addome e al petto, probabilmente inferti con un coltello, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Versilia con l'automedica. Poco dopo, non molto distante all'angolo tra Via Fratti e Via Lepanto, un altro uomo, sempre marocchino, è stato soccorso a causa di una ferita al volto, verosimilmente provocata da una bottigliata. Anche lui è stato trasportato al Versilia in codice giallo. Secondo i primi riscontri investigativi, sembrerebbe che due abbiano avuto una violenta lite, in cui ha avuto la peggio il 35enne colpito all'addome. I carabinieri stanno effettuando le verifiche per capire i motivi della lite e le effettive responsabilità. Non è da escludere che l'episodio sia da ricondurre all'ambito dello spaccio della droga, fenomeno di cui la pineta è teatro quotidianamente. Questa mattina il Polo Fiere di Lucca ha preso il via l'edizione 2022 del MIAC. Taglio del nastro per l'edizione 2022 del MIAC, la mostra dell'industria cartaria. Il settore si dà appuntamento al Polo Fiere con 250 espositori internazionali e grande partecipazione di visitatori per aggiornamento professionale e per consolidare e scoprire nuove opportunità di business. In primo piano, quest'anno, le tematiche legate alle grandi sfide del comparto, chiamato urgentemente a trovare risposte per quanto riguarda risparmio energetico, sostenibilità e tenuta della competitività, in un momento in cui si fa sempre più forte la minaccia di dumping ambientale. Le sfide sono ambiziosissime oggi e anche molto pericolose per il contesto nazionale e internazionale. Non solo l'energia, ma anche i nostri problemi di dumping ambientale con forse troppi ingressi di carta che viene da paesi che non hanno i nostri stessi problemi attuali. Però l'occasione è sempre quella di incontrarsi, parlarne e vedere di fare sistema. Tra gli stand, macchine, impianti e soluzioni d'avanguardia per gestire al meglio le varie fasi del ciclo produttivo e di trasformazione della carta e del cartone, ma anche incontri, convegni e tavole rotonde per una panoramica a 360 gradi del settore cartario. Il 2022, soprattutto per quanto riguarda la filiera della meccanica per la carta, è stato un anno comunque positivo. Chiaramente la dinamica dei prezzi avrà delle ripercussioni sui bilanci, ma ci dice anche che investire è l'unica strada che dobbiamo percorrere. Investire in innovazione è quello che le imprese sanno che devono fare e il pubblico, in questo caso anche la regione, grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale che è stato appena approvato a Bruxelles, potrà sostenere programmi di ricerca e sviluppo in quelle direzioni. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e per interessanti suggerimenti commerciali.